Ok, ora possiamo entrare nella porta E... Dobbiamo andare su Siamo quasi arrivati Passi Chissà quale bestia ci attende Scusate se parlo poco Ma sono particolarmente concentrata E di qua possiamo... No No, no, no Possiamo aprire questo Probabilmente servirà per tornare indietro Viene da pensare Qua c'è qualcosa Qua ci fa di niente Abbiamo anche un po' di cristallucci da spendere volendo Boss fight sicuro Sicuro Ecco Un'altra volta E' rimasta la barba C'è uno scheletro con la barba e la faccia Sargon Have you come to pay your respects? I'm here for you, Varun Kings don't have friends And you won't give me your powers Where does that leave us? We're always in each other's path Then I'm sure You will find me again Poi se sveglia papà Cosa ho fatti i tu Anzi mia Vero? E' Molto telefonato questo Vai che bellino che è Yeah, frizzi Frizzi Guarda Non mi vuole tenere compagnia Frizzi Sta montando Eh To rise once more Protect my son To rise once more Protect my son To rise once more Protect my son Cosa stai sparando? Bit cubbi Bit cubbi Porca miseria Perfetto Perfetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo colpisco neanche adesso. Ma perché non lo colpisco? Non lo colpisco. Non lo colpisco neanche. Sono congelati a mezz'aria, meraviglioso. Non lo colpisco neanche. E' terribile sto coso. Mamma mia. Dovevi essere già morto in realtà. Non lo colpisco neanche. La chiave del palazzo ieri è Darius. Ottimo. E abbiamo aumentato gli HP. Ok, andiamo avanti. La tomba di ghiaccio. Ok. E ora in teoria possiamo aprire quelle porte. Ma vedete. se effettivamente è così. Se effettivamente è così. Sì. Ottimo. Ottimo. Wellala. Non me ne ha pure te. Sì. Speriamo di no. Speriamo di no. Dobbiamo arrivare qui. Dobbiamo arrivare qui. Questo. Quindi, quindi, quindi. Viaggio veloce. e andiamo in su. Forza di cose. Direi di sì. Ok. No no. Mi dico. ok facciamo esplorare anche questo lato questo vabbè poi ci andiamo allora direi di tornare un attimo al rifugio vediamo se possiamo comprare qualcos'altro e se possiamo potenziare qualcosina ciao nonna no non ci dai niente ci dai serze ok va dal fabbro fammi vedere qui ce ne vogliono due o tre questo mille ne vuole tacci su è famo che adesso non facciamo niente ci pensiamo dopo e quindi ci spostiamo qui per forza direi di sì ciao ciao Sì. Alla colpo. Vai su. Ok. Aia. Mi sono neanche riposata. Un genio. Sacci tua. Che pesante però. Io. Questa è una bella rottura. Ok. Vediamoci. E di qua. A questa parte. Ok. Eccoci qui. Che dicono loro? Che sono bellini. Che è quel segnetto là giù? Ciao.